La terra La terra, le terre promesse non sono soltanto le situazioni, le cose della vita, ma spesso siamo anche noi stessi, perché ci sono delle persone che per esempio i conti con la propria realtà non li fanno mai, conti con i propri limiti, per cui continuano ad avere ad avere ambizioni superiori a quelle che potranno raggiungere in base a come sono fatti. E anche qui i più maturi, cioè quelli che non rimangono eterni ragazzi diventando ridicoli e spesso pericolosi, perché spesso chi non fa i conti con i propri limiti, con la realtà di com'è, diventa anche pericoloso. E le persone mature, ma anche quelle più felici, perché gli altri sono destinati a un'infelicità perpetua. Si riesce a essere felici quando si è tranquilli con i propri limiti, tranquilli nel non raggiungere certe cose che ci sarebbe piaciuto raggiungere. Ed è per forza rispetto alla terra promessa quella che dice felicità, e cioè non quella che dice felicità, quella che è felicità, cioè una felicità a cui manca l'accento. E però è il miglior stato che si possa raggiungere. Per esempio noi non sentiamo mai dire a felicità che vorrebbe essere magra, non la sentiamo mai dire neanche niente sul fatto che sia mala, no. La vediamo cercare l'amore ma non vediamo che recrimina il fatto di non averlo. Ecco, quindi quello stato. Se può essere considerata matura felicità, allora è considerata un'immatura la mamma, Esther. La mamma che invece è una persona che ha il senso comune delle cose, e cioè la mamma per esempio non pretende la luna. No, la mamma va in cerca delle terre promesse che però a tutti noi appaiono come assolutamente sensate. Voglio dire, le diamo ragione, no? Le diamo ragione quando vuole andare via dalla Sardegna perché il continente le sembra un luogo poverino, di delizie. Le diamo ragione quando vuole tornare indietro perché sappiamo che il continente per gli emigrati dell'epoca siamo negli anni Sessanta circa, 1960 non è affatto un luogo di delizie, no. E quindi la mamma di Felicita, Esther, quella che porta avanti in modo spasmodico per sempre, per tutta la vita, la ricerca di una terra promessa che non trova ci sembra un personaggio sensato. Perché? Perché corrisponde alla normalità della maggioranza delle persone. È un personaggio normale a cui si può tranquillamente dare ragione. Il fine di tutti i miei libri e anche la ragione per cui io scrivo, non scriverei altrimenti, è proprio quella di presentare il mondo così com'è. Ma attraverso questi personaggi che non sono esattamente normali, è presentare delle possibili alternative, a volte anche un po' impossibili. Però in tutti i miei libri c'è sempre il personaggio che incarna il mondo possibile, un mondo nuovo. Se pensiamo per esempio a Madame di Ali di Babbo, a cui i costruttori che l'avrebbero resa una donna ricchissima se avesse venduto quella terra meravigliosa, lei dice ma se io vendo la mia terra, poi di cosa vivo se rinuncio alla mia verdura, alle mie cose, al mio alberghetto da nove posti, come vivo? E questi pensano questa signora è scema, questa signora è idiota, perché lei se ne va da qui e non ha bisogno dei soldi per comprarsi due pomodori, glieli diamo noi. Quindi sono sempre persone che propongono un assurdo. Però il mondo dei normali alla fine è così bello che lo dobbiamo conservare, non va bene anche pensarne un altro, magari anche meno normale, più matto, che sembra assurdo a noi però può essere fattibile. A proposito dei normali, sotto sopra è il libro, sotto sopra non so bene come si pronuncia in francese ma dovrebbe essere son de su de su, son de su de su è proprio presente alla possibilità di un mondo sotto sopra e anche lì succedono delle cose che poi nella realtà non succedono. Può una domestica povera, non bella, in là con gli anni, conquistare un bellissimo, ricchissimo, violinista di successo, io non ho mai sentito niente del genere in tutta la mia vita. Però mi fa molto piacere inventarla una cosa così. E chiaramente, siccome, secondo me, almeno lo so da lettrice, siccome da lettrice a me non piace leggere delle cose troppo fantasiose, storie impossibili, ecco, una storia così a lieto fine mi deluderebbe, direi, vabbè, ok, la scrittrice se l'è inventata, buon per lei, però tanto non esiste. Ed è per quello che a tutti i miei libri manca lieto fine. È sempre una... non c'è lieto fine. C'è uno spiraglio. A proposito del Babbo, di Felicità, del personaggio di Raffaele, io lo metterei fra i personaggi ideali, insieme a Gregorio e a Felicità, lo metterei fra i maturi, anche perché la vita di Raffaele, essendo anche una vita di un uomo che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, che ha fatto l'Ager, non può assomigliare alla vita di Felicità che è nata dopo Giovanni XXIII e il rivolgimento delle cose, eccetera. E però lui è fra i personaggi maturi, perché la vita lo costringe a cambiare stato. Da marinaio, dalla marina militare, diventa operaio, poi diventa contadino, poi diventa di nuovo operaio in fabbrica. E in tutti questi stati che lui attraversa, lui è bravo. Fa il contadino come se fosse sempre stato un contadino dalla nascita. Fa il marinaio meravigliosamente bene, è in gamba. E non aveva neanche mai visto il mare quando si è imbarcato. E lui è ugualmente fra quegli esseri ideali, secondo me, che riescono nel loro stato a trovare il piacere, il piacere di esistere, di vivere. Tutti i miei personaggi, in realtà anche se ci può essere sospetto, ma non sono autobiografici. Anche Felicità un po' mi assomiglia, ma io vorrei essere come lei, ma non lo sono. Sono molto più normale di lei, molto più terra-terra rispetto a Felicità. Ecco, invece la Sardegna è una terra promessa e la ragione di questo è autobiografica. Nel senso che io sono nata a Genova, passato tutta l'infanzia fra Genova e poi Milano, e quindi sono due terre promesse autobiografiche del libro. E mia mamma, che non assomiglia a Esther, vagamente può essere rispiratrice, ma no, non assomiglia a Esther, mi diceva, mi parlava della Sardegna come di un posto mitico, mitico. E quindi io sono stata allevata nel mito della Sardegna e nel desiderio di ritornare a casa, perché io sono figlia unica, ma per i miei genitori era giusto tornare a casa, era bello tornare a casa e la casa era la Sardegna. Poi quando io l'ho scoperta, abbastanza presto nella mia vita, sono tornata in Sardegna in quinta elementare, quindi ero una bambina, ho notato che era davvero bella. Però rispetto, per esempio, ad altri scrittori sardi e ad altri sardi che fanno parte della mia vita, io per esempio della Sardegna non dico mai difetti nei miei libri. La Sardegna è il mondo perfetto, mentre altri scrittori non la vedono così. Ma io sono stata allevata col mito e chiaramente per me lo è. La Sardegna è il mondo perfetto,